oh come sei messo sei pronto guarda che dobbiamo andare a fare il sound check ah quindi non ce la fai mi dì vado sullo i vabbè vabbè allora ci becchiamo la per cena bene allora stasera suoniamo a Modena al tube con l'illewis per il mutaforma festival chiama gli altri due ma lui suona che vinilo? solo cd cd e chiavette niente vinile l'app non serve perché non li ho allincati ho allincato questi due se il primo di già li ho allincati e secondo me qua ci siamo io però dovrei cominciare quasi a smammare sì ma chi mani ma non puoi metterti queste quantità di profumo sei questa è un'essenza questa qua è un'essenza si chiama naso matto ne basta una goccia e sei futuro una goccia te ne avessi messo sei quinte no ma è scappato un po' però questo qui è fatto con il fumo è fatto con il l'asci Modena 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 fa come la famosa canzone di chi? beh sarà tu? non so io sai che non sono preparato sulle canzoni aldenese allora abito fuori Modena Modena fa come sarà Vasco Siri ricordami che il primo di luglio 2017 c'è il concerto di Vasco a Modena che non mi devo assolutamente prendere degli impegni non mi devo assolutamente prendere degli impegni ok allora abit ok 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 Grazie. Ehi ragazzi! 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 Che! Ehi ragazzi! grazie a fine serata io sono un appassionato a parte i capelli non c'erano tanti le oriste di cotti di croup wow guarda che divanata che piani divaning divaning non è pure ora e lo c'è un po' più ciao guarda che è un bello che si voi stammetti abbiamo un'ora e mezza di strada l'autostrada è vicino a casa di giugno ma che fordì l'autostrada è vicino a casa di giugno ma che fordì vuol dire che sei la strada io no voi potete mettere l'autostrada strada Matteo è una cosa relativa allora sono le non si sa che ora siamo stati tutto bene è andata bene lui ha spaccato ci siamo divertiti non abbiamo fatto schifo siamo divertiti c'è l'alba siamo modena modena ciao